Amici di Di Pomeriggio, eccoci tornati a un altro delle nostre chiacchierate con il nostro uomo a Milano, Simone Zappacosta, che oggi è con noi insieme a un ospite d'eccezione. Si chiama Leonardo Celsi, ma in arte è a tarde. Ciao a entrambi, sono molto contenta di avervi qui con noi a Di Pomeriggio per questo spazio che ci dà proprio una finestra fuori dalla regione Abruzzo, usciamo ancora più fuori, più fuori, più fuori e siamo a Milano. Simone, oggi siamo qui con un pupillo, diciamo che l'hai proprio curato e seguito e a tarde ormai ha spiccato il volo. Sì, Leonardo è l'artista della nostra etichetta Pezzi Dischi, vi ho iniziato a farvelo conoscere da un po', piano piano, ne ho parlato di Sanremo, delle sue prime uscite, e adesso possiamo parlare dell'ultima uscita che è Alba Adriatica, che appunto c'è un collegamento con l'Abruzzo. Sì, Alba Adriatica. Ecco, è l'ultimo singolo, no? A tarde. Alba Adriatica che parla d'Abruzzo. Incredibilmente, sì. Praticamente parla d'Abruzzo perché io da un paio di anni studio al Conservatorio di Pescara, quindi diciamo che frequento un pochino l'Abruzzo. E in particolare parla della tratta di treno che devo fare praticamente due o tre volte a settimana da Ancona a Pescara e passo, passando appunto per delle città a loro modo meravigliose come Alba Adriatica appunto. E quindi, insomma, una delle sette sorelle della costa teramana, perché insomma Alba Adriatica è proprio una delle sette sorelle, così le chiamano queste cittadine, che sono proprio una attaccata all'altra lungo la costa teriatica e in provincia di Teramo ce ne sono sette, tutte bellissime. Alba Adriatica è una di quelle. Nella tua canzone è proprio questo richiamo alla bellezza, forse, dei luoghi in cui passi con questo treno che ti porta verso Pescara. Esattamente, sì sì. Poi appunto io in realtà la cosa un po' paradossale è che non ho mai frequentato da turista questi posti, estendo comunque da Ancona il mare diciamo lo frequento vicino a casa, diciamo. Certo, avete un mare meraviglioso. Esatto, però in realtà la cosa sensazionale è che questa tratta di treno comunque ti permette di vedere degli scorci veramente bellissimi. Quindi appunto passando per Alba Adriatica, ma anche per altre città, appunto vedi questi spaccati di mare veramente incredibili. Senti, Alba Adriatica, Simone arriva dopo altri due singoli che comunque è di grande successo, che sono Muschio e Palloncini. Si sta costruendo pezzo dopo pezzo? Sì, il nostro obiettivo è di appunto costruire un EP, ma non in una maniera canonica, in una maniera un po' più particolare, esce a cadenza più o meno mensile, un singolo alla volta, che va a costruire e raccontare appunto questo percorso che arriverà poi all'EP e che presenteremo tra un paio di mesi. E invece Muschio e Palloncini di cosa parlavano, Leonardo? Allora, non c'è un filo conduttore vero proprio fra le canzoni, nel senso che ognuna ha il proprio tema. Muschio è una canzone che parla un po' di una situazione che mi capita abbastanza spesso, credo che capiti a tutti, cioè di magari girare un po' per una strada di nascita qualsiasi e di imbattersi magari in una persona che in quel momento magari per fretta, per ognuno ha un po' i propri problemi, insomma durante la giornata, non si pensava di incontrare e quindi di essere costretti un po' a delle frasi di circostanza per rimandare il discorso magari a un momento di maggiore calma. Mentre Palloncini è una canzone che ha un tema molto meno definito, possiamo dire. È molto, diciamo, un po' astratta e parla in generale di un momento di sospensione e di pace, un po' generico potremmo dire. Ognuno può vederci dentro quello che vuole. Comunque Palloncini è qualcosa che si eleva e si pacifica. Simone, ma diciamo che tra l'altro Leonardo ha in programma anche di fare un giro, no? Cioè in un tour, io so che state programmando, no? Sì, è stato appena annunciato il primo tour di Atarde, che vedrà diversi festival sparsi per l'Italia, vedrà la tua presenza in diversi festival sparsi per l'Italia. Abbiamo annunciato quattro date, ce ne saranno diverse altre da annunciare man mano, sarà lungo tutta l'estate, quindi tutti i promoter sono avvisati. Leggo, 31 maggio a Trento, 14 giugno allo Svicolando Festival a Monte Cassiano di Macerata, 30 giugno Rotondo Music Festival a Senigallia, 21 luglio Riloi River Festival a Losco, a Bergamo. Precisamente così. Insomma, quindi un'estate insomma bella, bella occupata, eh Leonardo? Considerando che le date sono in aggiornamento, quindi sì, sarà bella occupata. Molto bene. Tra l'altro io adesso però devo parlare di una cosa, ecco, noi oggi è lunedì. Cosa succede mercoledì, primo maggio? Leonardo? Cosa succede? Praticamente ho avuto la fortuna, avrò l'occasione di suonare al primo maggio di Roma, una cosa abbastanza importante. Al concertone del primo maggio, che è proprio, cioè una pietra miliare proprio dei concerti quelli proprio open, aperti, super frequentati. E' lo stereotipo proprio il più importante, infatti non ci credo bene, non devo realizzare appunto, vedremo come andrà. Com'è che vai a suonare al concertone? Io so che hai vinto proprio un contest, cioè eravate a... Esatto, praticamente era questo contest. Siamo stati presi inizialmente a una preselezione in circa 150, dopodiché una giuria ci ha selezionato in 12, ci siamo esibiti. E tre di noi appunto avranno l'occasione di esibirsi appunto mercoledì e sì, niente, il concorso si chiama I'm Next e sinceramente non ci speravo nemmeno troppo perché appunto eravamo tantissimi, invece è andata bene e quindi ci tocca. Molto bene, molto bene. Allora hai deciso già l'outfit? Guarda, su quello ci stiamo lavorando, però siamo in dirittura d'arrivo, siamo in contrattazione diciamo. Che vorresti mettere tu, fammi capire. Io proprio sono una persona peggiore per scegliere cosa mettere, quindi proprio lascio che mi venga detto cosa fare perché ho degli abbinamenti davvero poco, non ho davvero occhio per questa cosa. Un artista, cioè sei un artista proprio a tutti, niente, a tutto tondo, quindi outfit, niente, non importa. Senti Simone, tu come lo vorresti vestire questo ragazzo? Abbiamo una task force dedicata solo per questo, ci stiamo lavorando, ci stiamo impegnando a trovare il giusto outfit. Anch'io voglio una task force che mi vesta tutti i giorni, che bello. Senti, e invece cosa canterai? Canterò Muschio, che è appunto la nostra canzone che è uscita, il singolo che è uscito a gennaio. Se c'è un po', ma per i nostri amici di pomeriggio, non è che ci vorresti dare così un assaggio, una cosa? Perché non ci fai un regalo? Va benissimo, proveremo, proviamo, questo è proprio fuori busta, come si dice, cioè proprio così, un regalo. Assolutamente, questo è un ukulele comunque, speriamo che mi accompagni. Oddio l'ukulele, ecco. No, cioè... Vado. Vai! Sto con me In disparte da ciò che fai, tu giurami, se cado mi alzerai. E ho come l'impressione di essere un po' in ritardo, fuori contesto con un cervo in un parco, finito per sbaglio in un centro abitato, tu perdonami se puoi. Ti incontrami dovunque, sono come il muschio, non posso più nascondermi nella tua città. Mi troverai dovunque, non importa se non mi sto cercando più. Ti indicherò al nord, è la mia direzione, stella che mi segue ad ogni mio movimento. Stupido me, mi vergogno di te ancora. Ma bravo, bravissimo. Allora, io dico una cosa, che quando uno riesce a cantare così, proprio a cappella, con l'ukulele, io dico, altro che Pasqua del primo maggio, ma veramente, bravo, bravo, bravo. Grazie, grazie. Che dici, Simone? Si conferma bravissimo, Leonardo. C'erano tutti. Ragazzi, ragazzi, veramente, perché poi, cioè, l'umiltà di questo ragazzo che ha, cioè, accettare, no, anche il rischio, perché voglio dire, uno quando poi canta così, no, e invece è una pulizia. Bravo, bravo, Leonardo. Grazie mille, grazie, molto felice. È stato un piacere. Molto bene, e allora ce l'abbiamo avuto qui, a Rete 8, in anteprima rispetto al concerto del primo maggio, voglio dire. Ce l'abbiamo fatto. Va benissimo. Bene. Allora, diciamo, noi abbiamo, abbiamo così, abbiamo detto tutto quello che c'era da dire, Simone, su Leonardo e su, va bene. Sì, sì, abbiamo detto tutto, possiamo ricordare di ascoltare, appunto, Alba Adriatica, che è uscita venerdì su tutti gli store. Quindi, venerdì fresco, fresco, su tutti gli store, è uscito Alba Adriatica, l'ultimo singolo di A Tarde, mi raccomando, scarichiamolo, ascoltiamolo, e l'avete visto? Anche bello, cioè, bello, bravo, cioè, tutto. Diciamolo. Ecco qui. Quindi, scaricatelo, scaricatelo, e poi scaricate anche gli altri, perché anche Muschio e Palloncini non sono da meno, Muschio lo risentite anche dal palco del concerto del primo maggio a Roma, quindi, ragazzi, sono molto contenta di questo collegamento, mi è piaciuto, mi è piaciuto molto, grazie. Grazie anche a me, moltissimo. Grazie mille. Grazie Simone Zappacosta, che come ogni settimana ci porta delle chicche incredibili qui a Di Pomeriggio, direttamente da Milano, e ringrazio Leonardo Celsi in Arte a Tarde, che sarà mercoledì sul palco del concerto del primo maggio, ma noi l'abbiamo avuto in anteprima qui a Di Pomeriggio. Io vi saluto, grazie molte. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te, grazie a te. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te. dallo studio con Federico Di Luigi.